Con Giuseppe Seimandi, 5 volte campione del mondo, andiamo a conoscere le tipologie di bersaglio che verranno utilizzate in queste gare dei European Master Games a Rivoli. Questi sono da 20 centimetri, sono pidocchi nel germine tecnico, sono 4 perché le piazzole saranno fatte da 4 componenti, ognuno avrà la sua fila. Questi bersagli da che distanza devono essere colpiti? Questi vanno dai 5 ai 20 metri, se ne trovano 8 in gara, la zona del punteggio è 6, la zona più piccolina interna, il cerchietto interno, 5 e il resto del giallo e poi a scendere 4, 3, 2, 1 e 0 il resto della targa o del paglione. Questi sono i pidocchi, un altro tipo di bersaglio invece ce lo fa vedere? Sono di 4 tipi in tutto, questi sono da 40 centimetri, sono gli occhiali, saranno anche questi 4 per bersaglio, 2 superiori e 2 sulla parte inferiore, anche qui il punteggio per tutte le targhe va dal 6 all'1. Da che distanze? Questi vanno dai 10 ai 30 metri, mentre la targa da 60 centimetri andrà dai 20 ai 45 e l'80 invece che è la più grande andrà dai 30 ai 60 metri. Allora illustriamo per i profani la tipologia di arco che viene utilizzata in queste gare del tiro con l'arco di campagna. Certo, in questo caso abbiamo qui con noi un arco compound, è l'arco più preciso di tutti quanti, questo perché ha un sistema di mira fatto da una lente di ingrandimento, da una bolla, da uno sgancio meccanico, si aggancia alla corda e premendo il pulsante la freccia, la corda parte e la freccia insieme a essa. Poi ha una stabilizzazione anteriore e una posteriore e l'arco con più spinta, infatti questo arco esce circa a 300 piedi e quindi è un arco molto performante.